Ciao ragazzi, benvenuti nell'emporio del mercante d'orecchie. È assurdo comunque. Sono io e io sono qui a suonare insieme a io per fare un pezzo. Cosa ci suoni mercante? Facciamo un pezzo a quattro mani che suona come un pezzo a due mani però. È assurdo. Che forte, sembra davvero che ho due mani e basta. È stranissimo perché i quadri stanno diversi, capito? Cioè i quadri di PGM e Enigma. Bravo, bravo io. Sei proprio grande. Bravo io, sei proprio grande. Bravo io. Sei proprio grande. No, questo è successo.